Abbiamo il diritto alla casa, non è allegato, aiutare da Dio, aiutare da Dio, abbiamo il diritto alla casa, non è allegato, aiutare da Dio. Per favore Italia, noi siamo senza lavoro, senza casa, anche senza documento, senza mangiare, senza residenza, per favore arrestare noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.